Buongiorno, ho qui pronto il mio pumpkin spice con un po' di caffè, ci ho aggiunto un po' di caffè che è arrivato l'autunno e magicamente la copertina non ti lascia più andare dal divano, non si capisce questa cosa vabbè, intanto che arrivate, io mi drogo di pumpkin spice che a quanto pare si è rotto talmente tanto le scatole che Starbucks Italia lo porterà in Italia vabbè, buongiorno, eccovi che arrivate, ciao allora, in questa pausa pranzo non faccio in tempo a replicare il progetto del corso di oggi, lo facciamo domani mattina ma volevo fare un lo rapido, adesso vediamo come gestircelo, perché avrei un paio di idee ma vediamo un secondo come organizzarle l'idea è di usare poche cose come sempre, magari se ce la faccio niente timbri o qui dei washi, vediamo buongiorno, io ho sempre qui il mio bibitone di pumpkin spice, le carte vi sono piaciute? Sono contenta sono piaciute tanto, le avete già ordinate tantissime, quindi insomma sono molto molto felice ovviamente sono in pieno mood autunnale, oggi inizia l'autunno, ci sono un sacco di motivi per cui festeggiare i colori sono meravigliosi possiamo rimettere la copertina sul divano, io già da un po' che ho rinaugurato la stagione della copertina, dire il vero ma io sono un caso a parte, quindi buon pomeriggio, stamattina sono state bravissime al corso, basta dare loro un pacchetto di die cut e abbiamo risolto qualsiasi problema di gestione devo tenerlo a mente per i prossimi corsi a Milano, non lo so se riesco a venire quando andate sono un po' presa in questo periodo, però il 29 che è domenica prossima non lo so se riesco a venire, adesso vedo il bibitone, questo qua è il pumpkin spice Cagliari, nuvolo e ventaccio, oh mamma mia qui oggi c'è il sole, una bella giornata d'autunno non fa caldo, però grazie, sono contenta che le carte vi siano piaciute ne sono andate già via tantissime, ma tanto sono in produzione, quindi non ci sono problemi oggi è il primo giorno d'autunno, la clay è molto felice si festeggiano un sacco di cose oggi buongiorno, continuate ad arrivare, perfetto io intanto faccio raffreddare un pochino il pumpkin spice sperando di non rovesciarlo da nessuna parte con la copertina mi fate compagnia, meno male Gianmaria anche da starbucks, adesso vedo, non lo so se ce la faccio, è un periodo un po' pieno questo, tra tutto quello che sta uscendo delle nuove release, quello che sto facendo io di mio, insomma è un periodo intenso, però vediamo io al pumpkin spice e a starbucks non dico mai di no, al caffè non dico mai di no in generale, quindi lo sapete che vincete facile buongiorno fate un piccolo retornale, io non ho ancora fatto in tempo, domani oggi ci hai visto con occhi diversi, allora sul fatto che siete sempre molto brave potrebbe essere discutibile, potrei reperire dei testimoni che porterebbero alla luce episodi eclatanti è cambiato il giorno, adesso è il 23 settembre veramente, quindi non posso, io lo festeggio oggi l'autunno, non mi va di festeggiarlo oggi insieme a un altro tot di cose è cambiato il giorno? veramente? Nadia poi me la racconti questa cosa tra poco, quando ci vediamo allora sono contenta che le carte vi piacciono potete continuare a prenotarle sul sito credo che in settimana quantomeno la prima tornata di produzione mi arrivi quindi potranno essere distribuite credo già con i kit, in realtà già questo fine settimana dovrei ricevere anche i timbri e i die cut per i kit dovremmo essere abbastanza a buon punto da quanto tempo lina si è fatti? allora iniziamo a tagliare questa foto che mi sono fatta poc'anzi poi con la magia della selfie abbiamo preparato tutto allora la foto, credo che la cornice sarà questa questa è una cornice in chipboard della collezione Autumn Splendor della Simple Stories l'avevo aperta per fare il binder e avevo detto che poi avrei usato la rimanenza per un altro progetto ed eccole qua mi erano avanzate tutte queste però in realtà due sono doppie e io avevo una foto sola sono meravigliose voilà e questa è molto bella però per il tipo di foto che ho non va bene allora sono indecisa nel senso che vorrei usare questa carta non so se strapparne un pezzo ho detto strapparne calmiamo gli animi tutto bene le carte servono anche a questo non so se strapparne un pezzo e metterlo più o meno al centro del foglio e poi fare magari delle timbrate di foglie degli spruzzi di colore o se usarlo a tutta pagina e magari prendere un pezzo di questo strapparlo e metterlo come fascia centrale o a tre quarti facciamo una prova con questo intanto non ho ovviamente un righello ma ci aggiustiamo e la strappiamo così col righello magari sarebbe venuto un pochino più dritto così una fascia tipo così tutto a posto le carte sono fatte anche per essere strappate tagliamo la cimosa da questo magari c'è chi le strappa con più grazia io non tanto però potrebbe essere una cosa così veloce veloce che non mi dispiace sinceramente questa ovviamente centrata meglio però insomma così con qui le decorazioni potrebbe essere un po' più alta anche questa fascia in realtà e se provassimo con questa qui vediamo la facciamo un po' più alta qua mettiamo un po' verso il basso in modo che sia decentrata a me non dispiace per niente cosa ne pensiamo? credo che lo lascerò così vediamo se riesco a ecco zoomare un pochino così lo vedete una cosa semplice con poche cose mi sono presa qua vicino i washi che abbiamo usato stamattina e che useremo anche nel corso di questo pomeriggio che mi vedrete usare non ce l'ho una cornice a destra devo averla usata nel progetto del binder pazienza va bene così potrei ribaltare la foto ma va bene così questi qui sono i tre washi della collezione che abbiamo usato nel corso di stamattina e che mi vedrete usare domani mattina per rifare il progetto oggi in pausa pranzo non ce la farei a rifare il progetto quindi non ci provo neanche voilà sotto questo foglio qui c'è un cartoncino di Tommaso un 350 grammi voilà questo washi qui è molto carino e in realtà magari una striscia che corre così potremmo anche metterla adesso vediamo in realtà avevo preso questi washi perché nella foto alla fine non si vede ma oggi ho una maglia che richiama tanto questo colore qui questa qui eh lo so che copre me ma va bene fa parte della decorazione qui ci mettiamo qualcos'altro magari ci scriviamo ho preso il binder e ho preso anche i day cut adesso vediamo che cosa usare se no potremmo anche specchiare la foto però poi in realtà di qua mi rimane non lo so preferisco così forse allora questo qui potremmo forse usarne un pezzettino lì boh cosa ne dite lì su in alto magari possiamo usarli lì su in alto adesso vediamo vi faccio vedere che cosa altro ho preso queste sono le carte della collezione Simple Stories Autumn Splendor questa qui che ho questa qui di base è la Autumn Leaves la 11204 e questa qui Bordeaux è una di quelle basic Crimson Dots 11216 della stessa collezione poi mi sono presa senza sapere che cosa avrei usato i chipboard e poi ho preso i due pacchettini di day cut che ho scoperto oggi essere appunto un'arma fenomenale per placare le corsiste ok possiamo usare i day cut possiamo usare i chipboard in realtà così secondo me ha bisogno di pochissimo altro perché la carta è bellissima sicuramente ci voglio qualcosa che mi parli di pumpkin spice perché sto per bere questo qui è il mio tazzone di pumpkin spice la copertina la copertina mi sembra sempre una wonderful idea se devo dirvi potrei anche aprire questi dove ci sono tutta una serie di day cut bellissimi che abbiamo usato anche stamattina e che potrebbero servirmi per completare qui non che ci sia bisogno di chissà che cosa potrei anche solo autumn qui non mi ci sta perché è troppo è troppo grande però potrei usare questo allora apriamo questo perché c'è qui dentro un die cut adesso ve li apro tutti ma ve li avete già visti perché sono quelli che abbiamo usato per il binder c'è un die cut pumpkin spice pumpkin spice and everything nice è perfetto perfetto poi ci mettiamo sicuramente qualcos'altro adesso iniziamo a comporlo quindi ho deciso che sarà questa la composizione inizio ad incollare innanzitutto la mia base al cartoncino di Tommaso e scopro che non mi sono presa neanche la colla benissimo allora iniziamo ad incollare questo cogi adesivo poi del resto non preoccupo dopo ho solo dimenticato tipo forbici tutta questa roba qui vabbè almeno la colla dovrò prenderla ritengo ok così perfetto spellicoliamo attacchiamo la base al cartoncino di Tommaso che così ha un pochino più di corpo io li metterò poi dentro il page protector però se volessimo appendere o lasciarlo in piedi su una specie di diesel di base insomma che lo fa una specie di cavalletto andrebbe bene lo stesso sto facendo un layout a tema autunno oggi mi dicono che non è più oggi il primo giorno d'autunno ma io in perterrita oggi ho di che festeggiare e festeggio il mio autunno e questo è a posto poi questa striscia qui che è una carta basic della collezione che ho strappato abbastanza a caso queste cose le abbiamo nel nostro negozio ci sono tutte sul sito internet voilà così e così e quindi attacchiamo anche questa non proprio al centro un po' più in basso perfetto ora decido dove mettere la mia foto tendenzialmente vorrei che non sporgesse troppo perché poi voglio metterla dentro il page protector e quindi se sporge troppo non mi ci sta nel page protector quindi sarà una cosa del genere adesso vado a prendere la colla il pumpkin spice lo mettiamo qui e poi facciamo semplicemente qualche piccola decorazione una cosa che sicuramente voglio c'è il sole tu sei col pumpkin spice tanto orgoglio assolutamente dicevo adesso vado a prendere la colla scusatemi un secondo che mi è sfuggita eccomi qua usiamo il mio baradam qui e iniziamo a sistemare questo allora io inizierei fissare la foto la colla nuvo adesso è finita la trovate su ordinazione ma in realtà arriva a giorni credo che sia già in viaggio così e poi invece mi piace che si veda il bianco però si anche sporcato con il vintage foto sta benissimo mi piace che si veda il bianco contrasta un po' lo incornicia poi sono gusti ok questo lo teniamo premuto un attimo visto che il cibo ci mette un pochino di più ok allora ho qui questi uoscini in cui in realtà questa è una cosa che faccio spesso come elemento decorativo i prezzi li trovi tutti sul sito adesso non li ho qui sotto mano i die cut costano 5,50 le carte 1,10 insomma li trovi tutti sul sito allora facciamo così uno non fa troppo contrasto ma si vedono si vedono bene sono quelli della collezione quindi sono perfettamente coordinati non lo so Diana non ci siamo coordinati si continua adesso però voilà questo non colliamo dopo adesso questi li giro così sono storti vero sono assolutamente stortissimi Clelia mamma mia a fare le cose attraverso guardando dal telefono un disastro proviamo a raddrizzarli un briciolino vediamo se riusciamo così e così ok e farei una ripresa di quello lì qui sotto col bordo lo iniziamo con il blu facciamo così le foto le stampo con la canon selfie finché posso fare la misura finché ho bisogno di fare solo la misura massimo 10x15 va benissimo io la trovo perfetta la qualità di stampa è magnifica il rapporto qualità prezzo anche ok quindi abbiamo poi il mio pumpkin spice che sarà messo qui vediamo tra questi fantastici day cut intanto mi bevo un po' di pumpkin spice di quello vero questo è un layout che è praticamente l'incorniciare e disporre una serie di elementi che vanno a impreziosire una foto e raccontano quindi una storia la storia della foto allora vediamo che cos'altro possiamo mettere qui per esempio qui potremmo metterci qualcosa per coprire un pochino quell'angolo lì potremmo creare un piccolo cluster questa qui è una delle mie decorazioni preferite l'ho usata nell'albumino chissà se riesco a infilarla anche qui da qualche parte vediamo mi piacciono molto questi ticket vediamo se riesco a usarli in qualche modo creando delle sovrapposizioni ci sono anche tutti questi che sono meravigliosi c'è questo fantastic che mi piace molto e che magari attaccherei qui e lo attacco già senza pensarci troppo qua anche questi li attacco già così senza pensarci troppo un po' più giù magari così ok poi qui c'è sempre pumpkin spice pumpkin time che per me è sempre perfetto potrei metterlo qui sotto lasciamolo qui perché mi piace poi decido se usarlo o no hello and harvest fall colors anche questa tagghina qua è meravigliosa non posso usarli tutti me ne rendo conto lo so cercherò di farmene una ragione però intanto il mio pumpkin spice lo voglio assolutamente qui vediamo se riesco a usare anche qualcosa di questi potrebbero essere una cosa così e questo fall days magari lì lì sopra nell'angolo in alto potremmo mettere qualcosina che potrebbero essere semplicemente delle foglie oh this is fall oppure vediamo cosa altro abbiamo che ci piace qui fall colors fall fun more leaves più foglie sono tanti dai cut già mi sono inventata l'altro albumino per usarli tutti qui dobbiamo usarne meno Clelia facciamocene una ragione perché potrebbe essere anche una cosa così ma poi sparisce potremmo metterlo qui sotto no poi diventa troppo così diventa troppo forse in realtà vediamo qui c'è quell'arancione ma ce n'è un altro anche vediamo se lo trovo perché sono tre lo so perché sono le copertine sono le decorazioni della copertina del minimi d'ori adesso magari non lo trovo perché quando uno le cose le cerca non le trova mai dove sei vi giuro che c'è non lo trovo vabbè non possiamo perderci tutto il giorno ma usiamo uno di questi due che potrebbe essere ad patch così e lì magari ci possiamo infilare dietro una fogliolina tipo questa qua così allora intanto fermiamole queste goccia di colla goccia di colla ok poi il pumpkin spice lo fermo già qui questa qui questa qui è la carta della simple stories che si chiama aspettate un secondo che recupero qua la base si chiama autumn leaves la 11204 che è della collezione autumn splendor ah ecco dove era rimasto nel sacchettino more leaves va bene era questo qui quello che stavo cercando va bene così allora caduto il sacchettino ok allora questo l'abbiamo sistemato questo l'abbiamo incollato incolliamo questi 1 2 e questo sopra non mi prendo neanche la briga di spessorarlo perché è talmente bello così che non ha bisogno di altro voilà così e questo e praticamente il mio lo potrebbe quasi dirsi finito cosa ne dite? mi piace molto potrei pensare di fare qualcuna delle foglioline di tommaso timbrata qui magari anche in tono su tono potrebbe essere un bordeaux potrebbe essere un marrone io ho qui il pinecon da usare che dite? proviamo mi serve un blocchetto di acrilico che adesso non ho ma lo vado a prendere allora fatemi mettere un secondo via queste cosine qua questo sarebbe già bello così eh in realtà in realtà poi forse ci sono già le foglie potrei provare a farne una qui una qui andiamo a recuperare questa monocromatica questo rosso vinaccia è sempre una delle carte basic della Simple Stories è la Crimson Dots la 1-1-2-1-6 e fa parte della collezione Autumn Splendor sono le carte in tinta unita che hanno fatto per abbinarsi alla collezione e infatti si sposano meravigliosamente questo rosso qui è il rosso un rosso che si avvicina tantissimo al washi che hanno fatto e anche altre carte che sono nella stessa collezione io adesso ho preso questo foglio qui ma ce ne sono altre che sono molto su bordeaux proviamo ad andare a prendere un attimo il blocchetto d'acrilico aspettatemi lì eccomi qua proviamo a fare qualche timbrata tono su tono la foto fatta poco fa voilà due filtri e via per scaldare un po' di più i colori allora tutto questo pacchettino di felicità che avanza qui lo mettiamo nel suo sacchettino magari lo usiamo per qualcos'altro che ho aspettato a prendere allora queste carte basic sono una genialata nel senso che abbiamo sempre tutte abbinato altri colori di buzz piuttosto che di altre carte basic alle carte patterned però è chiaro che lo studio della cromia fatto da chi progetta le carte è un'altra roba rispetto a quello che possiamo fare noi con i colori che ci sono a disposizione quindi si sposano sempre meravigliosamente allora inchiostriamo questa meravigliosa fogliolina che fa parte del set doodle caldi a bracci di Tommaso nei timbri fatti come da scrap e la mettiamo da qualche parte così in maniera assolutamente non precisa sono doodle è quasi un tono su tono perché questo pinecon è molto scuro e sembra fatto apposta sono meravigliose ne facciamo ancora un pezzettino qui basta ora innanzitutto puliamo il timbro raffiamo le salviette puliamo il timbrino è uno dei primi che hai preso da me il pinecon i colori della Versa Fine Claire sono bellissimi vengono via tranquillamente con la salvietta poi in realtà su alcuni timbri vi rimarranno sporchi ma non va a compromettere in nessun modo la bontà della timbrata quindi non ve ne preoccupate sarei quasi tentata di timbrare qui anche caldi abbracci o caldi momenti ma no dai poi non mischiamo anche se momenti vabbè lasciamo così che poi dobbiamo riuscire a combattere questa voglia di riempire tutto allora una cosa che farei ancora ma proprio poco poco sarebbero qualche macchiolina con magari il bordeaux di Tommaso link spray di Tommaso link extreme adesso vediamo se lo trovo al volo e facciamo qualche macchiolina allora non collabora facciamo così lo prendiamo da qua no non lo prendiamo da qua perché l'abbiamo finito un attimo cerchiamo nel mio scatolotto di colori link di Tommaso torneranno tutti quelli che mancano domani lunedì sono in viaggio quindi l'attesa è praticamente finita ditemi che ho usato il bordeaux in uno degli ultimi corsi non me lo ricordo adesso non ce l'abbiamo più se no facciamo delle goccioline marroni che non ci avevo pensato prima in realtà andrebbe bene anche il notte perché c'è quel fondo di Tio che è bellissimo qui c'è il marrone teniamolo fuori che se non trovo il bordeaux bordeaux basta chiamarlo fargli prendere paura proviamo prima semplicemente con qualche macchiolina sì timbrano perfetti perfetti sì assolutamente proviamo qui prima con qualche macchiolina così lì ok puliamo qui e ne farei anche un paio Tial che è questo notte visto che ci sono questi richiami si vedrà poco però io so che c'è ok e adesso asciughiamo qua perfetto ok allora veniamo un po' direi che il nostro lo è praticamente finito cosa ne dite? riprendiamo il pumpkin spice a me piace molto io lo festeggio oggi l'autunno che dite? sì dai fatemi contenta allora pochissime cose un foglio di carta pattern e un pezzo di carta basic della collezione della stessa collezione un po' di die cut che potrebbero anche essere quelli avanzati una cornice in cibor sempre della collezione autumn splendor i timbri di tommaso i doodle dei caldi a bracci sono queste foglie che hanno vedete questo tratto che sembra un po' fatto a penna che sono meravigliosi sono i miei colori mi piace tantissimo questo è il periodo dell'anno che preferisco quindi lo festeggiamo festeggiamo un sacco di cose in realtà oggi e nulla domani domani mattina ci vediamo per rifare il progetto di oggi che è il mini midori verso le nove e mezza quindi vi aspetto in pausa pranzo oggi non ce l'avrei fatta perché comunque è un pochino laborioso con i tagli mi sono preparata tutti i tagli quindi magari riusciamo però oggi in pausa pranzo sarebbe stato piuttosto complicato divido il mio pumpkin spice con voi vi auguro buon sabato buon pomeriggio e ci rivediamo domani mattina che ne dite vi ricordo che se volete le carte che abbiamo presentato ieri che sono le nostre carte di Natale sono disponibili in preordine arriveranno poi a fine settimana più o meno potete ordinare sia il pad intero più il vellum oppure le carte singole che vi piacciono nelle novità le trovate in cima alla lista faccio qui una precisazione perché siete in tanti a dirmelo se nelle novità non vi appaiono gli aggiornamenti probabilmente dovete pulire la cache la pulizia della cache si fa in maniera credo diversa a seconda del browser che utilizzate quindi se cercate su google pulizia cache e il nome del browser che potrebbe essere chrome safari explorer quello che è se fate la pulizia tendenzialmente si vedono si vedranno subito gli aggiornamenti abbiamo fatto così in negozio con qualcuna delle clienti effettivamente funziona buon autunno a tutti oggi è una bella giornata qui almeno c'è un gran bel solo una di quelle belle giornate d'autunno che fa piacere vedere me la godrò tutta io e il mio pumpkin spice e tutte le cose per cui festeggio buona giornata ciao ciao